Noi non abbiamo né padrini né padroni, ecco il bello è che quando io mi alzo la mattina mi alzo con una fortuna che molti altri politici non hanno, mi alzo da uomo libero. Faccio quello che voglio fare, non devo rendere favore a nessuno, non devo ringraziare nessuno se non gli italiani. Poi per caità i giornalisti mi fanno le domande che i giornalisti devono fare, ma allora ieri il blog dei 5 Stelle ha detto che lei non deve essere processato, oggi c'è la giunta alle elezioni che decide se lei deve essere processato, poi ci sarà il senato della repubblica che deciderà se lei deve essere processato. E mi domandano, è preoccupato? Io sono la persona più tranquilla del mondo, facciano come credo. Per me va bene in ogni caso, anzi, siccome uomo avvisato, mezzo salvato, stamattina mi hanno informato che c'è una nave di una ONG tedesca che sta arrivando davanti alla Libia, sappiano che in Italia con il loro carico di immigrati questi signori non arriveranno mai. Quindi io idea con la cambio.